Salve a tutti, siamo in compagnia di Marco Iacutone, buonasera, candidato sindaco per la lista Ovindoli Oltre in vista delle amministrative comunali che si terranno ad Ovindoli il 5 giugno. Iacutone ci elenchi quelli che sono i punti essenziali del vostro programma elettorale? Il nostro programma elettorale intanto è un programma estremamente concreto, è venuto fuori dall'esperienza amministrativa mia e dell'attuale sindaco sciente che si è candidato con me insieme a un altro consigliere di maggioranza e soprattutto è venuto fuori dall'esperienza pure degli altri ragazzi che sono in lista con me, che sono in lista con noi operatori del settore turistico, piuttosto che comunque gente che è abbastanza esperta e vive sul nostro territorio. Ovindoli in questo momento ha bisogno, oltre che del turismo invernale e del turismo estivo, ha bisogno di destagionalizzare quello che è la presenza dei turisti sul nostro territorio. Noi abbiamo puntato soprattutto alla ricerca innanzitutto di finanziamenti per ottenere infrastrutture che servono proprio a questo, a completare la nostra offerta turistica e pertanto stiamo, abbiamo già puntato, ma stiamo comunque puntando per esempio sulle piste ciclabile, sul recupero dei sentieri. Noi vogliamo proprio questo, avvicinarci al mondo alpino perché ne abbiamo le caratteristiche, abbiamo le montagne, abbiamo tutta una serie di peculiarità che fino adesso sono state poche utilizzate. Certo le risorse non sono molte quelle degli enti, del comune in particolare e quindi dobbiamo far ricorso a finanziamenti esterni. Quindi stiamo già puntando su una progettazione per le piste ciclabili, andando a recuperare soldi nei vari bandi che vengono fuori, nel piano di sviluppo rurale, in tutti quegli strumenti che la Regione, l'Italia e l'Europa mette a disposizione proprio per creare questo tipo di infrastrutture. Poi nel programma è molto importante anche la vivibilità del posto, noi siamo in alta montagna, la popolazione comunque tende a crescere e ad avanzare d'età e quindi abbiamo la necessità di porre in essere dei servizi anche per queste persone. Dobbiamo puntare a migliorare la vita nelle frazioni, abbiamo due splendide frazioni San Potito e Santa Iona e Casalmartino che sono vivibilissime anche loro, che anche loro hanno una certa età in avanti e quindi dobbiamo migliorare i servizi lì. Nel nostro programma addirittura c'è il fatto che un consigliere sarà delegato ad ascoltare comunque tutte le associazioni, ad ascoltare le persone nelle frazioni e quindi man mano cercheremo di migliorare la vivibilità. Per quanto riguarda invece l'autorizzazione che è stata data dalla Regione circa il progetto di unire i due comprensori sciistici quali Campofelice e La Magnola, come risponde eventualmente a quelle che sono le critiche mosse da eventuali organizzazioni ambientaliste che hanno appunto ritenuto questa iniziativa inadatta o comunque inidonea a tutela comunque del territorio? Accolgo con piacere questa domanda perché è un ulteriore momento per cercare di far capire che cosa è successo e per fare informazione. Allora noi abbiamo a Dovindoli da completare il bacino sciistico, noi abbiamo delle aree che già la Regione Abruzzo ha approvato con il piano dei bacini sciistici e pertanto lì in quelle zone si può solo ed esclusivamente andare avanti con altri impianti e quindi il finanziamento di cui si parla va proprio verso questo indirizzo, cioè completare sul territorio vindolese quella parte di bacino sciistico che manca, con la realizzazione di altre tre seggiovie e la realizzazione di altre piste di sci. Queste sono assolutamente approvate appunto proprio dagli strumenti urbanistici della Regione Abruzzo, dal piano dei bacini sciistici e anche dal parco, si possono fare, non c'è nessun tipo di vincolo, sono fuori dalle zone cosiddette a protezione speciale, zone sic e quanto altro e quindi nulla hanno a che vedere con alcune notizie che sono venute fuori sui giornali piuttosto che messe ad hoc ogni tanto riprese e rilanciate che vedrebbero la realizzazione del collegamento passando attraverso i piani di pezza. I 5 milioni che la Regione Abruzzo ci ha dato, ci sta dando, si stanno concretizzando i passaggi tecnici sono solo ed esclusivamente per completare le piste di sci di Ovindoli. Un caloroso ringraziamento al candidato sindaco Marco Iacutone e un saluto a voi lettori e a presto.